Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'inizio di questo mio nuovo gameplay, la mia bella nuova serie su un bel titolo di Dragon Ball L'avevo già anticipato alla fine di Separate Ways Giochiamo per l'appunto oggi, iniziamo oggi la prima parte di Dragon Ball Advanced Adventure Un gioco uscito per Game Boy Advance come suggerisce il titolo nel 2005, quindi a ciclo vitale già ormai concluso di Game Boy Advance Fantastica console Qua... io... si avevo fatto delle prove ma iniziarei da un file ancora non iniziato A difficoltà non al male Questo gioco si suddivide, diciamo, sostanzialmente in tre parti La parte della storia, quindi con i... diciamo, i livelli quelli classici di esplorazione e platform in 2D I duelli e le fasi di shooter, diciamo, tra virgolette a bordo della nuova spi Ma lo vedremo poco per volta, adesso iniziamo e poi vi farò vedere poco per volta tutte le varie caratteristiche Leggiamo anche i dialoghi Questa avventura inizia in un tempo lontano, tra le montagne spardute Goku è impegnato nel suo duro addestramento Quando gli si avvicina una ragazza Tra l'altro, non abbiamo detto che questo gioco ripercorre le avventure di Goku nella serie, nella prima serie Quindi quando è bambino, dall'inizio fino al grande mago piccolo Questo tanto per dare un'infarinatura veloce Il suo nome è Bulma, fanciulla carina e risoluta Appena Bulma vede la sfera che Goku conserva come ci meglio Gli fa una strana proposta sessuale No, una strana proposta È una sfera molto bella, contenente alcune stelle Si tratta di una sfera del drago In tutto ve ne sono sette Quando raccolte tutte insieme Sono in grado di evocare il drago eterno Che esaudisce a qualunque desiderio Così in modo del tutto casuale Goku e Bulma intraprendono un viaggio Alla ricerca delle rimanenti sferi del drago E così iniziamo l'avventura di Dragon Ball Advanced Adventure Io spero veramente che questo gioco vi piaccia Trovo che sia innanzitutto A parte molto divertente Ma anche molto Aggraziato Guarda il problema non perché non si sente Anche diciamo Graficamente Subito ammazzato da un facocero Graficamente molto molto divertente È anche molto semplice da giocare Nel senso che C'è semplicemente Tre tassi Il tasto di salto Il tasto di attacco Il tasto del Del dorsale sinistro Del attacchi speciali Tutto qua Questo gioco Adesso noi stiamo sconfiggendo i vari nemici In realtà Potremmo anche non farlo Nel senso che non è Non è un GDR Non ha elementi GRPG In quanto i nemici che uccidiamo Non ci danno punti esperienza Ma danno semplicemente un punteggio Che permette di incrementare Incrementare il numero delle vite Quindi solo questo Sai Per uscire gli nemici Non ad altro E vaffanculo Ma è detto Gli unici scontri Quindi potremmo tranquillamente Evitare gli scontri Gli unici che non possiamo evitare Quando compare questo punto esclamativo Nero su fondo giallo Che appunto ci dice Che dobbiamo Necessariamente sconfiggere Tutti i nemici dell'aria Per poter Procure Vedere Benissimo Via L'unico Diciamo L'unico aspetto Che può rendere Questo gioco Varamente simile A un RPG E' il fatto E' il raccoglimento di alcuni collezionabili Ma fanculo Muori Il raccoglimento di alcuni collezionabili Che possono aumentare Le statistiche Le potenze di Goku Quindi a livello di HP Mana Lunghezza del bastone E di quell'indicatore In basso a sinistra Che altro non è Che è l'indicatore Che ci permette di Comprie le azioni speciali Ora vi faccio vedere Qua Nostitutto saltiamo Perfetto Che è questa Adesso abbiamo Non avendo ancora la Kamehameha Abbiamo questo attacco Col bastone rotante Questa barra ovviamente Si consuma Ogni volta che Compriemo un attacco E Si riempirà nuovamente Comprie Diciamo attaccando Gli avversari Ecco Queste porte Adesso Alla fine di questa parte Avrò un mal di gola tremendo Per vi do spiegare Tutte le varie cose Quelle porte che abbiamo appena visto Non si possono aprire Durante la prima Oh muovi Durante la prima run Si possono aprire Solo una volta Concluso il gioco E ricominciato Questo perché Boh L'hanno fatto a posto I sviluppatori Per rendere il gioco Rigiocabile E All'insul interno Si potranno trovare Degli altri collezionabili Che durante la prima run Non si possono ottenere Quindi sarà Fondamentale Rifarlo E tra l'altro Ricominciando il gioco Una volta concluso Si potrà Giocare nei panni di Faffanculo Non nei panni di Faffanculo Ma nei panni di Krili Che sostanzialmente È uguale Se non ha Gli attacchi Uguali a Goku Però non so Ma sostanzialmente Stata di Di Ben poca roba Di differenza Ok Continuiamo a sconfiggere Questi tizi Tra l'altro Alcuni scontri Potremmo anche Evitarci Se non sono fondamentali Uuuuh Bastardo Mi ha sparato Dovreste saperlo Che a me i colpi Di bisogno Non fanno nulla Ok Qua un po' di cani Da fare fuori Che andiamo in questa porta E troviamo la prima capsula All'interno di queste capsule Sono appunto Gli oggetti collezionabili Da raccogliere Li troviamo dove? Prima di tutto il tasto select In questa schermata Ci sono Tre pagine Giusto Due E tre Tre pagine di collezionabili Questo è l'oggetto numero sei Alcuni sono solo Diciamo Fini a se stessi Nel senso che servono solo Per raccogliere Servono solo da Così Per completare il gioco al 100% Altri invece Servono proprio per Incrementare la potenza di Goku Qua Dobbiamo Librare l'aria Le prese La street of rage Bellissimo Ok Tanto questa parte Non la farò durare tantissimo Credo Perché volevo Giusto appunto Fare la prima parte Ah un po' L'agrosso Bellissimo Fare la prima parte E vedere il vostro feedback Spero che vi piaccia Questo gameplay In realtà L'ho voluto fare Per fare qualcosa Di un po' diverso Perché insomma Fare sempre i suoi gameplay Mi stufo E immagino Vi stuferete anche voi Di vedere sempre le storie cose Quindi Ho voluto fare qualcosa Di un po' diverso Anche perché Su YouTube Italia Non ci sono tantissime persone Che hanno fatto questo gameplay Se sbaglio Se non sbaglio Forse Sono solamente un ragazzo Ho fatto Di questo gioco Tra l'altro Un ragazzo Di tipo 12 anni Un sacco di tempo fa E quindi Niente Ci tenevo a Fare questo gioco Che tra l'altro Mi è piaciuto un sacco L'ho giocato di recente Aiuto La tartaruga di mare E qua c'è E qua c'è il primo mini boss Da affrontare Ehi ragazzo Perché non mi dai quella Deliziosa Tartaruga di mare Chi mi dice che tu Non sia un mascalzone Non penserei mica Di potermi sfidare Non ho intenzione Di cercare uno come te Razzo L'insolente Come vuoi Mangio prima te Perfetto Ma io direi anche Che puoi anche evitare Di fare lo smargiasto Perché Non mi fa nessuna paura Ok Mi farò colpire Neanche una volta Da te Guarda eh No Invece mi ha colpito Una volta Eh vabbè dai Tanto ho abbastanza Energia per farti fuori Anche facendomi colpire Ok Aria libera Perfetto Come richiesto Della tartaruga liberata Goku Come richiesto Dalla tartaruga liberata Vabbè Errore di trascrittura Della tartaruga liberata Goku e gli altri Stigono verso il mare Mentre Goku Ammira per la prima volta Il mare La tartaruga porta Qualcun altro Salve Buon pomeriggio Sei tu che hai salvato La mia tartaruga Non è vero? Chi sei vecchio? Sono un maestro Muten Eh già Mi insegno di ringraziamento Per il tuo disturbo O insegno per te Uno splendido regalo Vieni qui Nuvola speedy Eh Vuoi darla a me Grazie Ah Cos'è il peso al collo Cosa? Ti riferisce questa sfera? Non c'è dubbio È una sfera del drago Ah hai ragione Yahoo Per favore posso prendere Quella sfera del drago? Mmm Perché no Te la regalo Prendila Che fortuna Grazie mia In realtà Non gliela lasciava Così semplicemente La sfera Faceva delle avanzi Nella serie originale Comunque E così Goku e Bulma Hanno guadagnato Una nuvola speedy In una sfera del drago Una loro destinazione Li attende Oggetto da collezione Nuvola speedy Acquisito Puoi combattere In cielo con Goku Infatti qua È quella sezione Che vi dicevo prima Di tra virgolette Shooting In realtà Non è proprio così La mappa Con i vari punti interrogativi Che ripercorrono I vari punti Della storia Di Goku bambino Viaggio di Olon Nuova tappa Di Goku e Bulma E un piccolo villaggio Stretto nella temibile Morsa dello spaventoso Olon Mmm Non vedi la roba Siamo i tanti Hanno chiesto a Goku Di eliminare Olon In cambio Della sfera del drago Così lo attende Un acceso sconto Con Olon Goku non impiega Molto tempo A capire La tecnica di trasformazione Di Olon Ben poi se si rende conto Di loro di fronte Un avversario Molto debole Così Dannazione Non mi resta da fuggire Trasformazione Ah Ehi Aspetta Appena Olon scappa In preda al panico La scena si sposta in aria E di fatti qua Ecco la sezione Che vi dicevo Non ce ne sono tantissime Durante il gioco Giusto due o tre Yuhuu Ehi Eh eh Non potrei sfuggirmi Ok Ok Dobbiamo semplicemente Fare fuori Olon Stando attenti anche Gli altri nemici Che ci rompono le scatole E anche stando attenti Alle sue trasformazioni Tra l'altro Oh Vieni qua Vieni qua Non ti trasformi Tu bastard Ah si Ah qua E sto cominciando a sparare No Ok Vieni qua Stai fermo Maledizione Dai No Cazzo Mi sono bruciato il culo Scendi Eh no Pensavo di averlo già Evitate Invece niente Ma maledizione Smetti di sparare Di scorreggiare fumo Ok Muori Andato Ok E abbiamo sconfitto anche Olon Il temibile Olon Mi arrendo Ti prego Perdonami Certo che sei proprio Un bigliacco Non è vero Gli lo chiede anche Maledetto Dovrei scusarti Con gli abitanti Del villaggio Ok Mi dispiace Non creerò più problemi Ah ah Ma grazie a te Siamo riusciti a guadagnare Una sfera del drago Guarda È la sfera Sei stelle Ok Andiamo subito In cercare Della prossima sfera Così ottenuta La sfera del drago Goku e Bulma Costringono Olon A unirsi al loro E ancora una volta Si incamminano Verso la prossima Destinazione Come vedete Segue pedestremente Il manga In maniera Molto molto fedele Devo dire Infatti Mi è piaciuto Proprio per questo Perché giochi di dragomb Se ne sono visti A milioni Su tutte le console Questo mi è piaciuto Particolarmente Terra desolata Qua se non sveglio Affronteremo Yanko Io penso che farò ancora Questo scontro E poi Poi basta Poi voglio Caricare la prima parte Ehi Chi sei? Sono Yamcha Il bandito Della terra desolata Se vuoi uscire Da qui vivo Dammi dentro Dammi dentro Di pugni Dammi denaro e capsule O capsule Per il caffè Bene Dammi subito Ciò che ti ho chiesto Che fame Miserabili idioti Bene Allora eccomi Ok Siamo attenti All'attacco Zanna di drago Che è molto potente E ho anche All'attacco Di pual Che rilascia Delle Bombe Ok E basta Maledetto Oh No 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 Bastardo Lasciami E tu non lanciami Bombe Maledetto E Perché devo venire Perché devo venire anch'io Lui giustamente Avrebbe potuto Farsi i cazzi suoi Ok Quindi Per ora Io direi che La Bocchiamo più questa parte Volevo farvi vedere La prima parte Diciamo così Che fungesse da Incipit Dal gioco In realtà In realtà Alcune sezioni In color Dobbiamo vedere Quelli dei combattimenti Perché questo L'abbiamo fatto Contro Yanko È un combattimento In stile Classico Che abbiamo Anche Durante i livelli In realtà I veri e propri duelli Sono strutturati In maniera un po' Diversa Ma Lo vedremo Peno Penso presto Contro qualche nemico Un po' Più Importante Di Yanko E niente Prove tutto Io adesso per Cercherò la prima parte Fatemi sapere cosa ne pensate Di questo gameplay Se il gioco vi piace Non vi piace Io in ogni caso Lo porterò a terminare tutto Perché l'ho adorato Spero che Di offrimi un'alternativa Un po' Valida Rispetto ai soliti Resident Evil E Crash Bandico Spero ovviamente Che vi possa piacere Lasciatemi un commento E noi ci vediamo Alla prossima parte Di Dragon Ball Advanced Adventure Ciao ciao